Un anno senza di lei, una stagione, senza Nadia. Sono molto fortunata, non è facile, mi giuro. Si conclude stasera con l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, le iene show. Lei nel cuore di tutti. I suoi colleghi torneranno a salutarla così, 100 iene per Nadia. Una foto che è diventata un tributo a quella conduttrice sorridente Macaparbia, spigliata e pure timida, ma era assegnata. Non trattateci da malati, siamo dei guerrieri, guerrieri, non malati. Una malattia che aveva deciso di condividere a cuore aperto, spesso nascondendo la tristezza grazie alla sua forza, alla voglia di non arrendersi mai fino all'ultimo. Grazie all'affetto dei miei amici, dei miei parenti, della mia famiglia e vostro. Sono qui e sorrido. Indagava, raccontava, centinaia i casi da lei portati alla luce, cercando la verità. Ma oggi colpo di scena. E anche questa sera le iene non si tireranno indietro, tornando sui troppi misteri ancora irrisolti della strage di Erba del 2006, in cui furono massacrate quattro persone, tra cui un bimbo di due anni. Ma soprattutto una puntata per lei, senza lei. Un nuovo addio a Nadia, un arrivederci ai telespettatori. Appuntamento in autunno con il trio maschile e il trio femminile, che si alterneranno alla conduzione. Attualità, inchieste, interviste, come è da sempre nello spirito delle iene, come è sempre stato nello spirito di Nadia.